Sono Selene Di Vincenzo, sono una bikini, sono la campionessa regionale siciliana e la vice campionessa italiana. Sono una bodybuilder per passione, sono appassionata del corpo umano e per questo sono anche la fondatrice dello studio uguale 3 dove ho ideato e applico il mio metodo, metodo uguale 3. Andiamo a lavorare l'apparato muscolo scheletrico nervoso in todo, questo ci permette di correggere laddove ci fossero dei vizi posturali, ci permette di andare a prevenire dolori, ci permette di andare a scolpire il corpo facendo e creando un disegno insieme alla persona in oggetto, valutando i gusti, valutando i tempi perché si va a preparare un programma personalizzato dove andiamo a decidere insieme un obiettivo da raggiungere, quale potrebbe essere dimagrimento, quale potrebbe essere il potenziamento, quello che voglio insegnarvi come esempio da bodybuilder è che tutto ciò che noi desideriamo, se ci impegniamo con coraggio, con dedizione, con coscienza otteniamo dei grandi risultati, quindi da campionessa siciliana vi invoglio a prendervi sempre cura di voi perché quello che insegno è che tu sei la persona più importante della tua vita, studio uguale 3, non è una palestra ma uno stile di vita.